Oggi un'idea veloce per preparare un dolce anche all'ultimo minuto Fagotti di pasta sfoglia alla Nutella con un cuore cremoso Congena delle piccole porzioni di Nutella utilizzando stampi in silicone oppure carta forno Ritaglia in otto parti uguali un rotolo di pasta sfoglia rettangolare Aggiungi i cubetti di Nutella Chiudi i bordi in questo modo sigillando bene prima con le dita e poi con i reppi di una forchetta Posiziona all'interno di una teglia con carta forno e pratica dei piccoli tagli in superficie Spennellare con un battuto d'uovo e via in forno a 180 gradi per circa 20-25 minuti I dolcetti, pasta sfoglia e Nutella sono pronti, super croccanti, perfetti anche per la prima colazione Trovi la ricetta e tutti i consigli sul mio blog Benessere Gusto